Ciao beautine! Bentornate in questo nuovo video, allora oggi vi propongo questo look davvero molto molto strong è uno smokey eyes su tonalità del viola, del nero, del fucsia e del rosa un look che sta benissimo un po' su tutte le colorazioni di occhi ed ovviamente adatto per la sera direi quindi di non perderci in chiacchiere e partire subito con il tutorial iniziamo ad applicare lo scotch alla fine dell'occhio, il correttore su tutta la palpebra e il mio solito ombretto color carne opaco sotto l'arcata sopraccigliare nella piega dell'occhio nella piega dell'occhio applico in abbondanza questo ombretto viola con una punta di fucsia al suo interno nella parte finale dell'occhio e nella piega dell'occhio applico l'ombretto nero nella parte centrale della palpebra mobile applico innanzitutto un primer bianco e successivamente ci applico al di sopra l'ombretto fucsia nella parte iniziale della palpebra mobile applico questo carinissimo ombretto rosa pallido shimmer creo un discreto punto luce nell'angolo iniziale dell'occhio realizzo la mia solita riga di liner nera e rimuovo lo scotch all'attaccatura delle ciglia inferiori applico rispettivamente l'ombretto fucsia l'ombretto viola con una punta di fucsia al suo interno e l'ombretto nero nella rima interna inferiore e superiore dell'occhio applico la matita nera la vado a fissare come il mio solito con ombretto nero e termino il trucco occhi applicando il mascara se sul ciglia superiori che inferiori dell'occhio ed il look è terminato vi lascio come al solito alle immagini finali spero che questo look davvero molto molto intenso ma colorato allo stesso tempo vi sia piaciuto ovviamente lasciatemi un like se è così e noi ci vediamo nel prossimo video ciao beauty me